che state facendo ragazzi un book check che è un libro è un libro dove lo leggi puoi prendere un punto per fare un film è un libro che quando lo leggi si può prendere spunto da un film che quando lo leggi prendi spunto per fare un film vapore tu dici vapore? no vapore io sento vapore vapore chuck, chuck, bu, no me lo devo fare meglio io che libro abbiamo scelto? questo eh? zonno vapore partito bu, chuck, uno prima azione no, lo dici, ci fai questa cosa? eh, azione no che cosa è un chuck? che stai a dire? non c'è la mano non gioca mica già è un libro quando lo leggi viene spunto per fare un film film come è un libro non c'è il libro dici Grazie a tutti.